I carabinieri della compagnia di Matera hanno tratto in arresto una 45enne di Vallo della Lucania, mentre la sua compagna, una 36enne, è stata denunciata per furto aggravato ed in debito utilizzo di carte di credito. I fatti contestati ai due soggetti risalgono al 13 gennaio scorso. Quel giorno i due si sono recati a Pomarico e nei pressi del cimitero hanno commesso un furto su un'autovettura. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, mentre la complice attendeva in macchina fungendo da palo in modo da poter avvisare il compagno in caso di qualche problema, il 45enne ha forzato lo sportello della macchina in sosta ed ha rubato una borsa contenente una cospicua somma di denaro, documenti e carte di pagamento. Subito dopo la coppia ha prelevato 1.500 euro presso lo sportello ATM di una banca del posto. I carabinieri del comando stazione di Pomarico, dopo aver ricevuto la denuncia da parte della vittima del furto, sono intervenuti sul posto. Nel corso del sopralluogo hanno acquisito importanti elementi di prova. Il successivo sviluppo delle indagini, anche e soprattutto grazie alle immagini riprese da alcune telecamere presenti in zona, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all'identità degli autori dei reati.